Colto e raffinato, versatile e brillante, è una combinazione di talento artistico e di simpatia, di umorismo e di ironia. Attore, comico, regista teatrale, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo, scrittore e chissà quante altre cose. Benvenuto a XXI secolo a Tullio Solenghi. Grazie, cosa ti devo per questa presentazione? Nulla, sono io che ti devo gratitudine per essere qui con noi a chiudere questa ultima puntata di XXI secolo. Prima di far raccontare a Tullio Solenghi le sue spettacolari gesta, vogliamo toccare un argomento che sta molto a cuore al nostro ospite, anche perché in questa nostra ultima puntata abbiamo parlato, come sapete, del rapporto che gli esseri umani hanno con gli animali. Allora, vediamo subito una clip e poi la parola a Tullio. Allora, ciao a tutti, sono ancora qui con mio Freddy. Perché? Perché voglio chiedervi una cosa che lo riguarda. Di firmare l'iniziativa dei cittadini europei Save Cruelty Free. È importante perché nonostante esista questo divieto, le autorità della UE continuano a chiedere che gli ingredienti dei cosmetici vengano spinti con forza in gola agli animali, ai sensi di una legislazione separata sulle sostanze chimiche, sono follia pure. Dobbiamo agire ora per proteggere e rafforzare i divieti di sperimentazione animale per i cosmetici e impedire che loro, i nostri animali, soffrano e muoiano. Io ho già firmato per il mio Freddy e per tutti gli altri animali del mondo e dovete farlo anche voi. Vi aspetto, grazie. Insomma, Tullio, ci hai messo la faccia, come si suol dire. Assolutamente sì. Insieme a quella del mio Freddy e a quella di mia moglie, perché poi anche lei è stata la mia grande guida nella scelta di diventare vegetariano, vegano, animalista. Questa dei test sui cosmetici è una causa molto nobile? È una causa molto nobile, ma io credo che ci siano in generale tante cause nobili che riguardano lo sfruttamento degli animali, l'uccisione degli animali per avere un cibo che potrebbe essere tranquillamente vegetale, sostituito dal cibo vegetale. Io credo che nei confronti degli animali si debba avere il rispetto che si ha per degli esseri umani. Non c'è differenza. Senti, come definiresti il tuo rapporto, il tuo sentimento nei confronti di Freddy? Freddy è un figlio, fa parte della famiglia. Io ho avuto due figlie femmine, ho due nipotini maschi, lui e il figlio maschio. Come già prima era Joker che lo aveva preceduto. Quando si ha un animale in casa io credo che non ci siano differenze. Eccolo qua, il mio Joker mi seguiva in tournée. Ed è questa appunto la cosa che mi ha fatto riflettere un giorno. Perché certi animali dobbiamo coccolarli, amiamo coccolarli come dei figli ed altri li uccidiamo per cibarci della loro carne. Veniamo ora alla lunga e luminosa carriera artistica di Tullio Solenghi. Partiamo dall'inizio e allora vorrei chiederti di raccontarci cosa ti sei inventato per superare il provino alla Scuola d'Arte Drammatica del Teatro Stabile di Genova. Mi sono inventato una cosa abbastanza singolare. Tutti presentavano pezzi di Shakespeare, Moliere, eccetera. Io feci una considerazione. Mi piaceva molto ascoltare la voce di Gasman. Gasman leggeva le poesie di Lopardi, soprattutto a Silvia. C'era questa, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendeva dagli occhi tuoi gridenti e fuggitivi e tu li etrai pensosa a limitarvi, gioventù salivi. E lì si fermavano tutti. Io avevo già la mente malata allora, nel senso ironico, comico, eccetera. E allora mi dicevo, ma quando Leopardi l'ha letta la prima volta al padre, come l'ha letta? Come Gasman? No, perché Leopardi non era mai uscito da Recanati. Quindi sicuramente sentiva un po' l'accento del Borgo, il Re Caratese, che poi sarebbe il Maceratese. E allora, secondo me, Leopardi la prima volta al padre, al Conte Monaldo, che era il suo mentore, l'ha letta, non Silvia, ma sentendo l'accento del Borgo, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendeva dagli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu li etrai pensosa a limitarti i gioventù salivi che dici, papo, ti piace? Mi piace Silvi. Siamo i nostri amici marchigiani, naturalmente. No, beh, quindi, ovviamente, provino passato. Passato, passato, scandalosamente passato. L'esordio televisivo di Tullio Solenghi si colloca a metà degli anni 70. Vediamo uno dei suoi primi sketch comici per il piccolo schermo. E già, il cabaret è un'altra cosa. Il cabaret è cultura. Il cabaret è denuncia sociale. Il cabaret cosa fa? Prende il personaggio, il personaggio famoso, e lo bersaglia, senza pietà. Lo so, prende il Frank Sinatra, fate conto? Non per raccontare la solida, squallidissima battutaccia che sappiamo ormai tutti del sosia di Frank Sinatra. La sapete anche voi, inutile che ve la racconti. Comunque, tanto per ricordarci, davvero, quello del sosia di Frank Sinatra che scende all'aeroporto di Fiumicino. E tutti, è arrivato Frank Sinatra. Frank Sinatra, come stai? Ma che stai, Frank Sinatra? Io sono il geometra Pizzullo di Napoli. Ho una vacanza, omiglianza. Ma non sono Frank Sinatra. Frank, ma ammazzo, ma sei sempre modesto. Via qua, via qua, ti porta il tassi. Il tassista lo vede? Mamma, sono Frank Sinatra sul mio tassi. Ma come stai? Ma le ripeto che io sono il geometra Pizzullo di Napoli. Non c'entro, sono sosia. Sono, se ne voglio dire, mi assomiglio, ma non c'entro come... Vai, Frank, sempre spiritoso, sempre modesto. Lo portano all'albergo, il proprietario dell'albergo arriva. Sono molto lieto di averla con noi, signor Frank Sinatra. Ma vi ripeto che non sono Frank Sinatra. Sono il geometra Pizzullo di Napoli. Quante volte ve la devo ripetere? Accompagnano all'appartamento numero 15. Sta salendo. Vi ripeto che sono Pizzullo. È inutile che insistete con questo Frank Sinatra. Lo portano al numero 15, gli aprono la porta e c'è una bionda sul letto che gli sta facendo così. Lui sta arrivando. Voi ho detto che sono Pizzullo. Non sono Frank Sinatra. Non... Stragere in the Nails. Questo è secondo voi il programma in onda su Rai 1, condotto da Pippo Baudo. Proprio di Albori. Eh, ma qui proprio con un sol balzo tu passi da Shakespeare e Pirandello al cabaret. Sì, io mi ero procurato un'orchite da Shakespeare, diciamo, perché avevo fatto sette anni di militanza allo teatro stabile di Genova e ho sempre avuto la passione del cabaret. Per cui dopo sette anni che secondo me sono serviti alla mia formazione, così come la scuola d'arte drammatica che citavi prima, e lì mi sono sentito con le carte in regola per debuttare nel mondo del cabaret. Ho debuttato a Milano insieme a un certo Beppe Grillo che faceva un altro genovese in terra straniera, perché eravamo a Milano. Io facevo il primo tempo, lui faceva il secondo tempo. A volte c'erano anche tre spettatori in sala. Lui una volta rientrò e disse sono contento, abbiamo fatto ridere il 70% del pubblico. Hanno riso due su tre. Perché era succedente. Perché il valore è sempre relativo, non è mai assoluto. Assolutamente sì. Tra i tre spettatori una volta capitò anche Pippo Baudo all'eterna ricerca di giovani da lanciare nel mondo della televisione. E ci prese e diventammo personaggi televisivi. Quest'anno si festeggiano i cento anni della radio e forse non tutti sanno che il mitico trio composto da Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez nasce all'inizio degli anni Ottanta con la trasmissione Elza Poppin su Rai Radio 2. Sì, Elza Poppin Radio 2 che fu complice in questa trasmissione uno dei grandi funzionari di allora e autori che era Arnaldo Bagnasco ed è una trasmissione che è nata come un varietà radiofonico da 13 puntate poi il successo si è portati a farne 52. Sono orgoglioso di dire che rimaniamo gli unici ad aver fatto un corso di mimo radiofonico che era ovviamente un minuto di silenzio però nessun altro ha mai tentato una follia di questo genere. E lì è stata un po' la base di tutto quello che poi avremmo fatto in televisione. La radio è una palestra straordinaria. Straordinaria. Senti, mi permetto di dire che il trio raggiunge un po' la perfezione su un presupposto che io ho sempre apprezzato apprezzato, ho sempre notato però non sono un tecnico della materia quindi correggimi se sbaglio. Il fatto che nessuno di voi è stato spalla dell'altro normalmente c'è la spalla e il comico eravate tutti e tre comici e tutti e tre spalle contemporaneamente. È corretto questo? È corretto. È corretto e questo deriva secondo me dalla nostra natura teatrale. Anna aveva fatto l'Accademia Silvio D'Amico di Roma Massimo aveva fatto anche lui Genova. il fatto di essere, di interpretare un ruolo e di essere una mini compagnia teatrale a nomi pari come la De Sica, Melnati, Lissone degli anni 40-50 ha fatto sì che trasformassimo poi questa nostra dimensione teatrale in dimensione televisiva, varietà, cabaret quindi c'era un'intercambiabilità di ruoli come avviene nel teatro? Ogni giorno c'è un ruolo diverso. E poi c'è un altro elemento che secondo me ha rappresentato una connotazione una specificità del trio quello dell'irriverenza, dello spiazzamento forse ecco la parola chiave è spiazzamento cioè tu ti aspetti un esito e invece ne trovi un altro che poi è quello che fa la fortuna di voi artisti. Assolutamente sì, in questo eravamo molto, devo dire, molto rigorosi quando noi facevamo la parodia del telegiornale pretendevamo di avere il look del telegiornale tu ne sai qualcosa di telegiornale perché chiaramente se tu vuoi fare il baffio alla gioconda devi avere la gioconda originale se fai una vignetta della gioconda il baffo non ha più quell'effetto dirompente, spiazzante per cui su questo noi abbiamo sempre molto giocato. Allora i nostri telespettatori sicuramente adesso vogliono rivedervi all'opera quindi facciamo partire questa clip. Chi può essere Aestora? Chi è? Sono Pedro! Ma sapevo, fai qualcosa? Asconditi, Ascondi! Foccate nelle armadio che fa più delle novela Sì! Oh sotto cielo! Sì! Dolore, sono Pedro! Sto arrivando! Venga, venga! Oh, Pedro! Dolores! Oh, Pedro, sai già tutto? Che cosa? Oh, è che ti vedevo diverso e pensavo... Anche tu sei diversa, Dolores! Oh, no, non facci caso, Pedro! Io, Toto, siediti qui! Avrai bisogno di riposare, Pedro! E vedi qualcosa? Vuoi bere qualcosa, Pedro? Ma vedi qualcosa? Ma perché sei tornato così presto? Vedi, Dolores, ero in viaggio in macchina, ma avevo qualcosa in testa e allora sono tornato! Questa è una parodia delle telenovelas che spopolavano negli anni Ottanta in tv, no? Spopolavano negli anni Ottanta e siccome arrivavano a Valanga, proprio, c'era anche una sorta di difficoltà nel doppiarle perché c'era troppo lavoro, erano in esubero e devo dire che in questo abbiamo molto giocato noi. Poi erano fatte un po' in maniera molto rozza, spesso con attori non straordinari, quindi un po' di sorta di cagneria di quel tipo di attore da telenovelas l'avevamo esaltata noi. Senti, ricordando Anna Marchesini, alla quale molte attrici italiane devono tanto, tu hai usato queste parole, hai detto che definirla un'amica è troppo poco. Ma sì, è troppo poco perché è stata per noi qualcosa di straordinario a livello di complicità, anche di indicare una strada, di dare gli spunti, come ognuno lo faceva nei confronti degli altri due, ma lei soprattutto, e poi la cosa fondamentale io credo che il fatto di non avere, c'è sempre questa antica usanza di attribuire sempre alla donna un ruolo minore, lei è stata straprotagonista del trio, questo non per una scelta strategica, ma perché era giusto così e questo suo essere così presente si è scolpita in ognuno di noi, nel proprio cuore, nella propria anima e ce la portiamo ancora oggi che non esiste più, ahimè. Nel 1990 il trio conobbe l'apice del successo con lo sceneggiato televisivo I Promessi Sposi, parodia dell'omonimo romanzo di Alessandro Manzoni, trasmesso su Rai 1 in cinque puntate, pensate, con picchi di oltre 14 milioni di telespettatori, un successo clamoroso, un vero e proprio fenomeno nazional popolare. Allora, guardiamoci insieme un passaggio. Agnese, quanto somigliate a Lucia, voi siete l'esatto ritratto di vostra figlia, però in più avete questa maturità, questa esperienza, questa saggezza, questa premura dei miei confronti, Agnese, ma soprattutto voi avete questi due seni, belli e sodi. Oh, Renzo, di nuovo! Oh, Renzo, perché fate così? Oh, no, vi prego, la vedovanza, Renzo! Agnese! Non mi inducete in tentazione, Renzo! Agnese, venite qui! Un giorno, lasciatemi andare! Basta! Renzo, Renzo, non fate così! Basta, fermatevi! Basta, fermatevi! Per carità vi invoco! Non posso sopportare oltre questo dileggio che voi compite sull'opera mia. Ma lei chi è, scusi? Neppure voi conoscete chi vi è d'innanzi. Colui che vi sta parlando è Alessandro Manzoni, l'autore. E lo dico soprattutto per coloro che si mettessero in ascolto soltanto adesso. Sono venuto dunque a por fine allo scempio da voi perpetrato. Insomma, un'opera d'arte post-moderna. Secondo me voi siete riusciti a far amare Manzoni anche a chi a scuola non andava bene e quindi detestava. Ma ti dirò che io, una volta, arrivarono le mie figlie che facevano la punta che andavano a scuola e mi dissero, papà sei sul nostro libro di testo, di letteratura. No, non è possibile. Sì, aprirono e c'erano i promessi sposi. C'era l'immagine di quelli ufficiali di Bolchi degli anni 70 in bianco e nero e quella di noi tre sciagurati. E molti mi hanno detto che appunto, diciamo, sono stati più facilitati all'approdo, al grande, al capolavoro dalla nostra versione. Tutto serve pur di arrivare alla conoscenza. Assolutamente sì. Naturalmente non possiamo dimenticare in principio era il trio. Giulietta, aprite! Sì. Salto la porta. Una bella. Cielo, il mio amante! E fin qui ci siamo, no? Giulietta, aprite! Cielo, mio marito! Vi dispiace nascondervi dentro l'armadio? Sì, 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 sì. Adesso va bene, no? È l'amante che va dentro l'armadio. Vito, vedete le spiegazioni. Entrate per cantarvi su, vi darò poi delle spiegazioni. Che sarà di me? Giulietta, finalmente vi spiegherete perché... Giulietta, aprite! No, il mio amante! Vi dispiace nascondervi dentro l'armadio? Ancora? Sì, 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 entrate per cantarvi su, vi darò poi delle spiegazioni come al solito. Allora gli avete parlato, Giulietta. Ascoltate, Andrea, ascoltate, che cosa devo dire? Giulietta, aprite! Cielo, mio marito! Vi dispiace nascondervi nell'armadio? Io? Sì, vi spiegherò poi. Ma che c'entrò dentro l'armadio? Non capisco, perché devo stare dentro l'armadio? Una volta per uno. Oh! Finalmente adesso direi tutto a papussi! Ma che papussi è papussi! Lì! Cielo! L'amante! Cielo, la mia amante! Mi dispiace nascondervi nell'armadio? Oh! Finalmente adesso mi direte la verità! Giulietta, aprite! Cielo! Mio marito è il mio amante in una botta sola! Grande ritmo, grande complicità, inversione dei ruoli, anche qui lo spiazzamento. Assolutamente sì. Poi c'era proprio la parodia di tutti quei famosi, delle famose commedie del marito, della moglie, i tri famosi che hanno fatto la storia di tutta una serie di commedie teatrali. E noi giocavamo proprio esasperando quello. Altro passaggio nella carriera di Tullio Solenghi dal trio al duo con Massimo Lopez è una sfida difficile. Il rilancio delle classiche comiche mute, ve le ricordate, e del loro linguaggio universale perché vanno definite così, opera dal linguaggio universale. Iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 offendere e Anna che è stata imitata da Massimo Lopez con i baffoni voglio dire va bene che donna baffuta sempre piaciuta ma insomma però geniale è stato un momento di enorme divertimento anche perché ovviamente loro hanno colto quello che è il mio modo di parlare su cui ho cercato di lavorare poi negli anni sai che Tullio sarà il prossimo nostro ospite che meraviglia io lo adoro, è stato con me in maniera clamorosa ballando con le stelle, ha lasciato veramente un ricordo strepitoso ma anche Massimo poi è venuto a ballando con le stelle e tutti e due sono stati anche al cantante mascherato quindi siamo una famiglia che ha dimostrazione che non me la sono presa anzi li ringrazio veramente di questa imitazione cosa vuoi dire alla nostra comune amica Millie? quella amica Millie è una macchina da guerra io non credevo perché perché io avevo delle esitazioni soprattutto per ballando e lei è riuscita grazie a lei sono arrivato in finale grazie a Maria Ermaccova che ha fatto un lavoro strepitoso però la determinazione di Millie a darmi sempre coraggio devo dire che se non facesse il messiere che fa la prenderei come coach perché è fondamentale se non ci fosse il caso di dire bisognerebbe inventarla in questo momento Tullio Solenghi sta portando in scena la commedia I maneggi per maritare una figlia cavallo di battaglia dell'attore comico genovesse Gilberto Govi vediamo un passaggio insieme io ero lì che facevo un pisolino lasciami fare un pisolino no? oh i miei ti ho detto che a momenti arriva gente se è ancora lì che ti perdi le braghe ma che braghe braghe ciao Cesare ciao Barbara animo Carlottina vai un momento di là che sta arrivando gente siamo tutti qua Gigi vado subito brava Carlotta ma cosa che è barba mi sembra un po' ma che mi sembra mi sembra è nervoso dorme dorme tutto il pomeriggio e poi si capisce che si sveglia nervoso vedi Gigi quando dormo è l'unico momento in cui sto un po' tranquillo perché quando dormo non ti vedo anzi mi raccomando sempre fatemi sognare quello che volete ma non fatemi sognare di mia moglie scusa eh Cesare ah mi guarda poi sai d'orinanzi vestiti non ti vestire dormi non dormire fai tutto quello che vuoi perché io non ti dico più niente vorrei morire se parlo accontentatela accontentatela l'arlecchino ligure l'arlecchino ligure l'iniziatore della specie tutti dobbiamo qualcosa a Govi noi liguri ed era il mio sogno di riportarlo in scena portarlo in scena lo conobbi quando ero bambino nel mio paese di Sant'Ilario mi fece l'autografo ed allora mi è rimasta questa voglia di riportarlo e finalmente sono passati un po' di anni ma ci sono riuscito e poi funziona molto l'idea di far ridere entrando in quella dinamica classica tradizionale che è il buon partito il buon partito perché la moglie appunto vuol fargli sposare un mezzo nobile come lo definisce lei e lui invece vorrebbe fargli sposare il cugino che sono innamorati fin da ragazzi e c'è tutta questa dinamica della moglie che si inventa la qualsiasi per cui è una cormedia molto divertente che fu un suo cavallo di battaglia che ha avuto un grande successo in Liguria e la sperimentiamo anche fuori dai confini liguri quindi al Quirino è uno spettacolo coprodotto dal Teatro Sociale Camogli del Teatro Nazionale di Genova e dal Centro Teatrale Bresciano ci sono tanti giovani bravissimi dove i nostri telespettatori ti possono vedere nelle prossime date le prossime date sono al Teatro Quirino dal 2 al 14 di aprile quindi da domani anzi da oggi perché credo abbiamo superato da poco il lunedì e quindi poi andremo al Teatro di Brescia poi faremo l'ultima settimana di aprile al Teatro della Corte di Genova per chiudere la prima settimana di maggio al Teatro Carcano di Milano assolutamente da non perdere è l'ultima puntata di ventunesimo secolo una manciata di minuti ci separa dal congedo abbiamo chiesto a Tullio Solenghi di farci un regalo di scegliere interpretare un testo che si legasse al nostro percorso narrativo allo specifico del nostro programma ventunesimo secolo il sottotitolo come sapete è il presente che diventa futuro quale autore hai scelto per questo regalo che ci fai? ho scelto un autore che malignamente non gli hanno mai consegnato il Nobel e lo avrebbe meritato assolutamente il grande Borges Tullio Solenghi al centro di questo palco del TV5 di Via Teulada della RAI se potessi vivere di nuovo la mia vita nella prossima cercherei di commettere più errori non cercherei di essere così perfetto mi rilasserei di più sarei più sciocco di quanto non lo sia già stato di fatto prenderei ben poche cose sul serio sarei meno igienico correrei più rischi farei più viaggi contemplerei più tramonti salerei più montagne nuoterei più fiumi andrei in più luoghi dove non sono mai stato mangerei più gelati e meno fave avrei più problemi reali e meno problemi immaginari io fui uno di quelli che vissero ogni minuto della loro vita sensati con profitto certo che mi sono perso qualche momento di allegria ma se potessi tornare indietro cercherei di avere soltanto momenti buoni perché se non lo sapete di questo è fatta la vita di momenti non perdere l'adesso io ero uno di quelli che mai andavano da nessuna parte senza un termometro una borsa dell'acqua calda un ombrello un paracadute se potessi tornare a vivere vivrei più leggero se potessi tornare a vivere comincerei ad andare scalzo dall'inizio della primavera resterei scalzo fino alla fine dell'autunno farei più giri in calesse guarderei più alberi giocherei con più bambini se mi trovassi di nuovo la vita davanti grazie grazie al maestro Tullio Solenghi per essere stato dell'ospitalità